Pochi giorni fa abbiamo appreso la notizia che Daniele Nardi e Tom Ballard non ce l'hanno fatta e sono rimasti su quello sperone. E sono un po' di giorni che mi tormenta un po' una domanda che tra l'altro ho riletto anche sul gruppo XFamily, che è un gruppo che vi consiglio di andare a guardare perché è un gruppo molto interessante. Non sono ancora riuscito a darmi una risposta per cui mi interessa sapere che cosa ne pensate, se me lo scrivete nei commenti magari mi date una mano ad arrivare a una risposta un po' più precisa. La domanda che mi sta bruciando un po' dentro questi giorni è se valga la pena per seguire la propria passione lasciare orfano un figlio e vedova una moglie. Cioè mi sto chiedendo se sia giusto o sbagliato inseguire fino a questo punto le proprie passioni. Cioè è giusto tentare un'impresa così improbabile, così difficile a costo di mettere a repentaglio la propria vita pur sapendo che questa scelta avrà una conseguenza su tua moglie, su tua figlia, su tuo figlio, sui tuoi genitori, su tutti gli amici, su tutte le persone che ti conoscono. E quindi mi chiedo se sia appunto seguire le proprie passioni o se sia quasi una forma di egoismo questo. Quindi pensare solo a se stessi e le proprie passioni senza tener conto che invece c'è tutto un contesto di persone che di fronte a questa tua scelta ne pagheranno anche loro le conseguenze. Sto leggendo tanti articoli, tanti anche post su Facebook su questo tema e mi ha colpito anche un'intervista che ha fatto Mesner, che è considerato credo il più grande alpinista di tutti i tempi o almeno dell'epoca moderna, che ritiene questa loro impresa un'impresa suicida. Peraltro dice di averli anche avvertiti a suo tempo di quanto fosse impossibile riuscire a salire quello sperone peraltro in inverno, quindi in condizioni meteo molto proibitive. Secondo Mesner questo non è alpinismo, questo è cercare di fare gli eroi un po' anni 20, anni 30 ma per l'alpinista l'obiettivo principale è sempre quello di tornare a casa con la pellaccia viva. Invece il mio amico Paolo Palumbo ha fatto un post bellissimo su Facebook è andato a vedere, Paolo Palumbo è il più giovane malato di Sla che un paio di anni fa ha avuto la fortuna di incontrare Obama, cui ha presentato il proprio libro di ricette frullabili e commestibili per chi non è più in grado di masticare. Paolo ha scritto un post veramente molto bello, in cui inizialmente dice di quanto anche per lui sia importante la sua passione, la passione come chef, per lui fare lo chef non è mettere a repentare la propria vita evidentemente, ma poi si chiede se l'attimo prima in cui due hanno capito che sarebbero morti, se si siano pentiti della loro scelta o se invece fossero contenti di morire facendo ciò che amano. E conclude dicendo che due hanno usato gambe e braccia per andare incontro alla morte, mentre lui le gambe e le braccia non le può più utilizzare e cerca tutti i giorni di rimanere vivo. E poi infine trovo bellissimo il messaggio che invece ha scritto Daniele a suo figlio nel caso non fosse riuscito a ritornare da quell'impresa che probabilmente sapeva essere così difficile da superare. Infatti mi colpisce questa sua consapevolezza che stesse per andare a fare un'impresa veramente molto rischiosa. E lui dice così, lo leggo. Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che però non si è reso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo. Non fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà, non un'idea. Vale la pena farlo. Io non so che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato in questo caso. Non lo so in quasi tutti i casi, soprattutto non lo so in questo caso. Quello che so è che ora questo bambino non ha più un padre e questa moglie non ha più un marito. Però sono certo che entrambi siano veramente orgogliosi di un uomo che non è rimasto a guardare, ma ha avuto il coraggio di seguire le proprie passioni e che addirittura è morto inseguendo il proprio ideale. Perché forse i figli più di tutto hanno bisogno di avere qualcuno da guardare, da stimare, qualcuno che dia loro la speranza che valga la pena fare, rischiare, vivere. Se vi va ditemi la vostra nei commenti, aiutatemi a trovare una risposta a questa domanda che mi brucia ancora dentro. Ciao, ne?